Un membro designato all'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni d'Europa, un organo a rilevanza costituzionale europea. Poche chiare parole che il governatore d'Abruzzo scrive sulla sua pagina Facebook per far sapere che si trova a Bruxelles. Lo aveva annunciato da tempo, l'Abruzzo è stato in sordina, messo da parte nelle grandi decisioni e ora è tempo di sedere ai tavoli decisionali. Per la prima volta nella storia delle regioni e della regione Abruzzo, un'abruzzese al governo del Comitato Europeo delle Regioni. Le regioni sono organizzate a Bruxelles con un comitato in cui fanno parte tutte le regioni d'Europa, poi c'è un governo che li mette insieme. Dentro questo governo ci sarà e c'è, è stato eletto il presidente D'Alfonso, che vorrà seguire delle partite importanti per la nostra regione. Per esempio la più grande oggi partita che noi ci troviamo a giocare a Bruxelles è il fatto che l'Abruzzo, ma insieme anche al Molise e in gran parte anche alle Marche, sono fuori dai corridoi europei, cioè da quei tracciati che l'Europa disegna sulla carta geografica e su cui passeranno i maggiori investimenti per quanto riguarda le infrastrutture e collegamenti. È nel corso dei lavori della centodecima sessione plenaria del Comitato delle Regioni, quella presso l'emiciclo del Parlamento Europeo, che si decideranno capitoli importanti come il partenariato transatlantico su commercio e investimenti, l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione Europea ai prodotti non agricoli, il quadro strategico dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il piano d'azione verde per le piccole e medie imprese, l'iniziativa per favorire l'occupazione verde. Questi sono alcuni dei punti all'ordine del giorno. Noi abbiamo a Bruxelles, come è noto, come tutte le regioni in Italia, una sede. Quella sede noi vogliamo che sia sempre più vissuta dagli abruzzesi, a partire dai giovani, che diventino sempre più professionisti dell'Europa e delle regioni in Europa, perché lì si colgono opportunità e noi le vogliamo cogliere le opportunità. Per cui la presenza di D'Alfonso oggi in quel comitato comporterà che D'Alfonso dovrà essere ancora più presente a Bruxelles.